Analizzate e riflettete su queste semplici immagini. Dimostrano aerei commerciali che transitano davanti alla Luna e immagini della ISS che transita sempre davanti alla Luna. Sono più o meno della stessa grandezza. Se la ISS è della grandezza che affermano con una larghezza di 73 metri, come quella di un aereo commerciale, non potreste vederla a 400 km. L'aereo commerciale si trova a soli 10 km circa ed ha una grandezza simile alla ISS con sullo sfondo la Luna della stessa proporzione. Non può essere. Si tratta di altro non certo di un oggetto ad una distanza di 400 km.